E' falso che i capelli non abbiano bisogno di protezione dal sole ma soprattutto dagli agenti esterni. Il loro compito come struttura è proprio quello di riparare il cuoio capelluto e nel fare questo assorbono gli agenti esterni e vengono progressivamente danneggiati. Questo significa che per esempio la salsedina, il vento finiscono per renderli opachi, più fragili e quindi buona norma durante il giorno utilizzare tanti prodotti che ci sono in spray, emulsioni per proteggere, aumentare la protezione e di notte utilizzare altri prodotti ristrutturanti proprio per aumentarne la resistenza durante la giornata.